Torna al nostro appuntamento con What About Politics, il momento assolutamente essenziale per fare il punto della situazione sulle vicende politiche ed economiche e oggi facciamo il punto con Maurizio Belpietro, direttore della Verità. Grazie direttore per essere con noi. Grazie a voi. Partiamo subito in modo tranchant perché mi verrebbe da chiederle subito a suo parere, a livello governativo. Abbiamo già una deadline che può essere quella del 26 gennaio con le elezioni in Emilia Romagna per vedere la fine di questo esecutivo? Il 26 gennaio se per caso la maggioranza giallorossa perdesse quella sfida, cioè perdesse l'Emilia, per il PD sarebbe una catastrofe e quindi è evidente che il PD sceglierebbe di uscire dal governo e di farlo cadere e di andare ad elezioni. Perché? Perché Zingaretti in questo momento è in grande difficoltà, non controlla sicuramente il suo gruppo perché gran parte di quel gruppo venne deciso. I parlamentari che stanno a Montecitorio e a Palazzo Madama furono scelti da Matteo Renzi e una parte risponde ancora a Matteo Renzi nonostante Matteo Renzi abbia fondato un suo partito. Quindi Zingaretti aveva voglia di elezioni è stato convinto invece a dar vita a questo governo, un governo innaturale perché come abbiamo visto su tanti argomenti il PD la pensa in maniera diversa rispetto ai 5 Stelle e anche Italia Viva ormai, quindi è probabile che se ci fosse una sconfitta elettorale in Emilia il PD ne trarrebbe le conseguenze, uscirebbe da questo governo ritenendo che questo governo gli porti solo male e gli faccia perdere voti. Lo stesso per la verità si proporrebbe per il Movimento 5 Stelle perché abbandonate via via una serie di argomenti che sono tipici del Movimento 5 Stelle, della Tava al Tava, la Tappa e così via, fai conti col proprio elettorato che è scontento. Dopo torniamo su quello che è il sentiment rispetto ai partiti politici e anche a alcune dichiarazioni che in queste ultime ore hanno fatto un po' il giro del web e non solo. Un altro tema forte del Movimento 5 Stelle per così dire sempre è stato quello dell'ILVA, così ci ributtiamo su uno dei temi caldi del periodo. Sull'ILVA insomma un governo che in questa ultima ora Conte ha detto in realtà non è solo il problema dello scudo penale perché ci sono altre motivazioni, i vertici chiedono che ci siano dei posti di lavoro che non possono più reggere, insomma che idea si è fatto? Di chi è la colpa? Mettiamola così, domanda anche qui altrettanto taranciano. Allora, quando c'era la maggioranza giallo-blu o giallo-verde chiamate, insomma quando c'era ancora Salvini al governo, ricordo che avevo scritto un articolo ed eravamo a giugno, quindi sospettabili da questo punto di vista, in cui dicevo guardate la posizione del Movimento 5 Stelle farà sì che il gruppo franco-indiano ArcelorMittal esca da questa operazione e per l'Italia sarebbe una catastrofe. Che cosa è accaduto? È accaduto che prima avevano promesso lo scudo penale, l'immunità penale ad ArcelorMittal, perché? Perché chiunque si avvicini a un'azienda che è comunque nel mirino della magistratura, è ovvio che nel momento in cui si fa carico dell'azienda, deve avere il tempo di ristrutturarla per evitare che continui ad inquinare, a fare quello di cui è stata accusata. Ma se tu non mi dai il tempo e dopo sei mesi mi ritieni responsabile perché sei mesi di inquinamento ci sono ancora, è ovvio che io non ho nessuna intenzione di prendermi quella patata bollente. Allora quindi chiunque, qualsiasi candidato all'acquisto dell'IVA aveva chiesto di avere l'immunità penale. L'immunità penale era stata promessa e a questo punto si è fatto un contratto, il contratto prevedeva anche quello. Che cos'è accaduto? Che oggi tu mi togli l'immunità penale, perché? Perché il Movimento 5 Stelle, o meglio una parte del Movimento 5 Stelle è in difficoltà, è capeggiato da Barbara Lezzi che è pugliese e che non è più ministro e quindi è in cattività, dente avvelenato contro la stessa sua maggioranza, contro lo stesso partito e ha fatto, ha fatto quindi ha capeggiato questa cosa dicendo bisogna togliere l'immunità penale all'azienda e all'ILVA, ai manager dell'ILVA. I manager dell'ILVA, in particolare gli azionisti di ArcelorMittal che cosa hanno pensato? Bene, utilizziamo questo fatto, ovvero la clausola penale che ci è stata tolta per far saltare tutto quanto e siccome il mercato dell'acciaio è cambiato, è evidente che adesso ArcelorMittal ha il cortello alla parte del manico, si siede a Palazzo Chigi e dice non mi basta più adesso che mi ridiate lo scudo penale che mi avete tolto, perché è saltato il contratto, perché avete tolto questa clausola, ma io voglio ridiscutere tutte le condizioni, compreso i livelli occupazionali, complimenti a chi ha fatto questa scelta. Giustamente lei ha nominato, come ho fatto io del resto, la parte del Movimento 5 Stelle del governo, in tutto ciò come classifica il Partito Democratico? Il Partito Democratico, allora Zingaretti, come ho detto, non voleva fare questo governo, è stato costretto a partecipare a questo governo, del resto la linea del Partito Democratico, fino a prima che Salvini facesse la crisi, ufficiale votata in direzione era mai col Movimento 5 Stelle, dopodiché che cosa è accaduto? Le pressioni della Chiesa, le pressioni del Quirinale, le pressioni dell'Euro per non andare a votare e quindi impedire che gli italiani si scegliessero da chi essere governati e quindi il risultato è il seguente, un governo dove il PD vuole una cosa, il Movimento 5 Stelle ne vuole un'altra e Renzi approfitta dei dissidi per volerne un'altra ancora, il risultato è una confusione totale, il governo è in stato confusionale, ma guardate solo la manovra, ogni giorno ne esce una nuova, allora prima ci doveva essere la tassa sul contante, poi è sparita la tassa sul contante, poi bisognava cancellare tutti i vantaggi fiscali, poi sono tornati indietro, poi bisognava introdurre la tassa sulle flotte aziendali, sulle autodate in uso ai dipendenti che il 40% del parco macchine italiani, poi allora no, si torna indietro, poi ci doveva essere la plastic tax, poi la sugar tax, poi ci sono inventati, doveva esserci la tassa, doveva essere triplicata l'imposta ipotecaria e catastale, no torniamo indietro perché l'imposta non va bene a qualcuno, insomma è una confusione totale. Giancarlo Giorgetti, torniamo alla crisi di governo precedente, ha detto Matteo Salvini ha fatto un investimento sul futuro, tutti dicevano, mi scusi l'espressione, è stato un cretino, queste le parole di Giorgetti del numero due della Lega, in realtà stiamo assistendo a qualcosa che forse era stato previsto, ha avuto ragione quindi Salvini? Guardi, io non so se ha avuto ragione Salvini, dico solo una cosa, che per mesi io ho letto articoli, suggerimenti, impressioni varie riportate in tv o raccontate in tv, dove si diceva che Salvini doveva rompere perché non andava più d'accordo col Movimento 5 Stelle, non so se vi ricordate ma prima delle elezioni del 26 di maggio, quelle europee insomma, quelle in cui Salvini ha preso il 34%, Salvini la Lega ha preso il 34%, 5 Stelle e Lega si sono scambiati ogni genere di botte, si sono tirate botte da Orvi e quindi si diceva, vabbè ma sono in campagna elettorale ma adesso bisogna tirar le somme, il risultato di quel conflitto è stato che il Movimento 5 Stelle è andato al 17% e la Lega è andata al 34%, cioè questo è ciò che hanno certificato le elezioni europee, a questo punto hanno detto Salvini deve rompere perché così capitalizza, ma se avesse rotto sarebbe successo esattamente quello che è accaduto, e poi gli hanno dato dell'idiota, del cretino perché dicevano, eh vedi ha rotto e si è fatto fregare da quegli altri, ma l'avrebbero fregato se l'avesse rotto il 27 di maggio, il 27 di giugno o il 27 di luglio, ha rotto ad agosto, perché ha rotto ad agosto? Perché ha sperato, sapendo che ovviamente nessun cappone salta volentieri nella pentola per essere cucinato e quindi né i 5 Stelle né gli altri sarebbero saltati nella pentola per essere cucinati andando alle elezioni per prendere una batosta, quindi lo ha fatto ad agosto sperando che non avessero il tempo di organizzarsi, cioè che fosse talmente veloce l'operazione di poterlo. E' andata male, ha sbagliato i conti, non ha previsto tutto, vedremo quello che succederà, se questo governo poi alla fine premierà, come pensavano loro, i 5 Stelle e il PD o premierà la regola. Ecco, ricitando poi l'espressione che ha usato lei prima, è stato confusionale, forse in questo momento sì, è vero, si sono organizzati, hanno formato il governo, ma insomma non si sono organizzati al loro interno, quello è un po', però vedremo, insomma adesso c'è la manovra, giustamente come ha ricordato, anche lì sembra quasi che un giorno si dica una cosa, un giorno si dica un'altra, ma sono i fatti che lo dimostrano. Dov'è finito il centrodestra al quale eravamo abituati a pensare, direttore? Il centrodestra al quale eravamo abituati a pensare non c'è più, non c'è più perché Forza Italia ormai è ridotta ai minimi termini, cioè sì, poi Berlusconi ha ancora un suo carisma, per amore di Dio, ha ancora la sua capacità in campagna elettorale di raccogliere dei voti e quindi io prevedo che dai dati che vengono forniti adesso dai vari sondaggisti possa anche salire, cioè dal 5-6% che gli veniva attribuito, possa arrivare al 7, all'8, forse anche al 9, ma ricordiamoci che in questo momento è stato scavalcato da Fratelli d'Italia, cioè da un partitino che era nato col 4%, ma che oggi come minimo viene dato all'8-9%, più vicino al 10 quasi da qualcuno. Il che vuol dire da un lato che Fratelli d'Italia ha ereditato parte di Forza Italia e dall'altro sta magari anche prendendo qualche pezzo dalla Lega. La Lega comunque è ritornata al 34-800 secondo gli ultimi sondaggi, quindi abbiamo un'area moderata, chiamata di centrodestra, quella che una volta era considerata l'area di centrodestra che era gruppa, che è guidata non più da Forza Italia, ma dalla Lega e il secondo partito non è più alleanza nazionale come c'era una volta, ma è Fratelli d'Italia e purtroppo quella che era l'area, non lo so, più moderata è rappresentata da Forza Italia col 7, 5, 6, 8%. E manca questa parte e soprattutto ci vede il successore, intravede il successore di Berlusconi? No, non intravede nessun successore di Berlusconi perché non c'è il successore di Berlusconi e non ci sarà. Berlusconi è unico, è stato un leader politico che ha dominato la scena politica per 25 anni e ancora in qualche modo la domina. Se voi andate a rivedere nella storia della Repubblica, non c'è mai stato un leader politico che sia stato a capo di un partito per 25 anni, che abbia rappresentato o la maggioranza o l'opposizione per 25 anni, perché anche, perché noi diciamo vabbè ma c'erano dei personaggi storici come per esempio che so Fanfani, Andreotti, ma questi personaggi governavano per un anno, due anni, poi sparivano e si inabissavano, non erano padroni della democrazia, cioè se anche cambiava il governo, non erano padroni della democrazia cristiana, al massimo erano i capi corrente di una fazione. Quindi è molto diverso, se pensiamo a Craxi che consideriamo uno statista importante della storia della prima Repubblica, Craxi è durato otto anni, la storia politica di Craxi, vera, da leader, cioè da segretario del partito più poi presidente del consiglio e così via, otto anni, cioè Berlusconi è durato 25 anni. Ma questo demerito degli altri o un merito che evidentemente non ha saputo avere nessuno di Berlusconi? O la scena politica si è svuotata di alter ego, per così dire, indipendentemente dal colore politico? Ci sono sicuramente una serie di fattori. Innanzitutto la scena politica non è dominata da giganti della politica, ma semmai da nani della politica. Quindi se io devo guardare a quella che è la storia politica di questo paese, nel passato avevamo comunque dei personaggi di un certo spessore. Io non è che sono un nostalgico, ma da De Gasperi a Craxi qualche figura importante della politica italiana l'abbiamo avuta in motivazione reale. Oggi le persone che vedo sono persone A che conoscono poco o niente della macchina dello Stato e infatti ce ne vedono dei risultati e soprattutto non hanno un carisma certo necessario per gli dare le cose. Detto ciò, il primo a non volere un erede è Silvio Berlusconi, perché non prevede erede Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è unico, si ritiene unico, ma non ha mai voluto costruire qualcuno a cui passare il testimone, perché non prevede di passare il testimone. Sono quelle figure storiche importanti che hanno tanto carisma che non possono lasciare in eredità il carisma. Il carisma non si eredita, è una delle poche cose che non si lascia. Il carisma non si ha o non si ha. Quindi magari arriverà un altro leader che saprà interpretare le cose. Ma in questo momento non c'è. Voi pensate Salvini. Salvini prese la Lega al 4%, se non vado errato, nel 2014, cioè 5 o che anni fa, poco prima insomma delle elezioni europee. La Lega stava al 4% e i pronostici la davano in via di estinzione. E Salvini è diventato uno dei protagonisti della politica. A proposito di Salvini, direttore, io ho giusto qui una dichiarazione fatta da Oliviero Toscani, che in queste ore ha parlato un po' a ruota libera. Lui dice, cito testuali parole, Salvini è responsabile di questa deriva? No, ma lui è stato eletto dalla maggioranza dei coglioni, così ha detto, di gente che non ha più una sensibilità umana. Questo vuol dire che gli italiani sono tutti dei C, come dice Toscani. Cosa ne pensa? Allora, una volta Oliviero Toscani era famoso perché faceva delle foto scandalo, nel senso che fotografava i malati di AIDS per far pubblicità alle magliette Benetton, fotografava i condannati a morte sulla sedia elettrica negli Stati Uniti per vendere le magliette Benetton, metteva una donna anoressica per vendere delle alte magliette che non erano Benetton, una ragazza, cioè faceva delle foto scioccanti. Oggi non è più capace di fare foto scioccanti e quindi c'è solo cose sciocche, anziché scioccanti. E le cose sciocche sono queste qui, cioè dare dei coglioni agli italiani è una cosa sciocca. Gli italiani votano in base alla loro coscienza e al loro interesse. Non sono né fascisti, né nazisti, né comunisti. Semplicemente scelgono quello che ritengono di voler scegliere, cioè l'offerta politica che c'è sul mercato. L'offerta politica sul mercato oggi prevede qualcuno che magari è favorevole ad aprire i porti e qualcuno che è favorevole a chiuderli. E quindi gli italiani scelgono quello che vogliono a chiuderli perché ritengono che uno dei problemi di questo paese sia anche una immigrazione disordinata. Il che non vuol dire essere contrario all'immigrazione. Significa semplicemente essere favorevoli all'organizzazione e al governo dell'immigrazione, cosa che i governi non hanno fatto. Di razzismo si sta parlando anche per il caso Ballotelli, l'ennesimo caso Ballotelli mi verrebbe da dire. Salvini ha detto insomma non accettiamo lezioni da un milionario viziato. cosa ne pensa? Perché anche Ballotelli ha detto insomma non mi stavo riferendo a tutti però come al solito ci sono queste accuse di razzismo nei confronti degli italiani, cos'è meno si lega anche al suo discorso dell'immigrazione. Di immigrazione si parla molto meno perché il problema non c'è più o perché semplicemente si è un po' rinascosto l'argomento? No, perché si è nascosto l'argomento, perché in questo ultimo anno, dal 2018 al 2019, si erano fermati gli sbarchi. Adesso gli sbarchi sono ricominciati, si racconta una cosa che non è vera e cioè che l'Europa ha accettato la redistribuzione dei migranti, non è assolutamente vero, intanto lo prova il fatto che quando si vanno a cercare i migranti sbarcati li si ritrovano quasi tutti in Italia perché non sono andati all'estero, non sono stati mandati all'estero. L'Italia non è né fascista né razzista, l'Italia semplicemente chiede ordine ed è normale che si chieda ordine. L'Italia chiede che non ci siano i clandestini ed è normale che non ci debbano essere i clandestini perché in qualsiasi paese non ci sono. Andate in qualche altro paese e vedete se noi siamo qui di fronte alla stazione centrale, se la situazione è quella che vedete qui sotto, qui in questa piazza. Non è così e evidentemente altrove governano l'immigrazione, il che non significa essere contrario a un cittadino che arrivi dalle Filippine piuttosto che dall'Ucraina o dall'Africa. Significa pretendere dai cittadini che arrivano dalle Filippine, dall'Africa o dall'Ucraina che rispettino le leggi del paese di cui sono ospiti. Ultima cosa, riprendo la dichiarazione di Olivero Toscani che dà degli italiani dei C per aver votato Salvini. Indipendentemente da questo, voto ai sedicenni e invece il non voto agli anziani. Quella è un'altra stupidaggine. No ma voglio tornare, poi rispondo su questo, voglio tornare sul tema dei fascisti. Noi abbiamo fatto una copertina di Panorama settimanale che dirigo, insieme con la verità, perché l'Italia è diventata fascista. È un pezzo di Bruno Vespa che certo non può essere sospettato di essere fascista, che prevede però poi sotto una fase dice ma non potrà mai tornare al fascismo. Cioè racconta e ricostruisce l'ascesa del fascismo, le condizioni economiche, il sostegno che ebbe il fascismo negli anni 20 e racconta perché oggi la situazione è totalmente diversa, completamente diversa e non c'è alcuna possibilità che l'Italia ritorni a essere fascista. Certo, quelli che un tanto al chilo vanno in televisione con i toscani a parlarne, ne sparlano così e ribadisco solo per fare un po', scioccare un po', finire sui giornali e far parlare in sé. Tornando all'argomento, voto ai sedicenni, togliamolo invece ai pensionati, ecco quella mi sembra proprio invece una, per usare il termine di toscani, se mi è consentito e ovviamente non voglio offendere nessuno, una coglionata, perché come diavolo si fa a dire che un signore di 60 anni, di 65 anni non debba poter decidere del futuro di questo paese, è una follia, a parte che i 60 anni sono la maggioranza e quindi tu stai escludendo la maggioranza, ma sapete cosa sta accadendo? Che un'elite di persone, siccome a questa elite di persone non piace come votano gli italiani, vorrebbero togliere il voto agli italiani, è un po' come quando nel passato, quando c'era ancora il Regno d'Italia, a votare erano solo i maggiorenti, cioè solo quelli che si ritenevano intelligenti, ricchi, brillanti, nobili e così via. Le masse popolari invece non erano considerate capaci di scegliere e di votare, si vuole ritornare lì, cioè le masse popolari, il pensionato non deve votare, perché? Ma perché è un pensionato, no? E siccome è preoccupato per il futuro, è meglio che non decida del futuro, facciamolo decidere ai ragazzini, col risultato che ci troveremo ancora peggio di come stiamo, cioè in bancarotta. Su cosa vi concentrerete d'ora in avanti, direttore? Poi la saluto e la lascio al suo lavoro, perché la verità porta sempre avanti delle battaglie, su cosa vi state concentrando? Ma noi ci concentriamo su ciò che interessa i lettori. Questo giornale è nato perché aveva un solo padrone e sono i lettori, ma non lo aveva così per definizione. Dietro questo giornale non c'è nessun gruppo editoriale, non c'è un'impresa che fa automobili, non c'è un'impresa che debba vendere i computer o qualcos'altro, non c'è un'impresa che debba piazzare posti letto, non c'è un'impresa che debba guadagnare con la politica, c'è semplicemente un'impresa di giornalisti, di gente che hanno voglia di raccontare i fatti, di ascoltare i lettori e di andare incontro. Infatti è l'unico giornale italiano che cresce e aumenta le coppie. Mentre tutti parlano di crisi dell'editoria, noi siamo nati tre anni fa, quando si diceva che non c'era più spazio, anzi che la carta era finita, e siamo un giornale che sta crescendo in termini di coppie, che non ha perso una lira perché i nostri lettori ci comprano, costa anche meno rispetto agli altri giornali, perché gli altri giornali costano di più. Noi abbiamo scelto di costare di meno per andare in edicola e trovare. I lettori sono i nostri padroni e li ascoltiamo. Ecco perché difendo, quando parliamo, diciamo ma i pensionati non devono votare, gli italiani sono coglioni. Gli italiani si esprimono, vogliono essere informati, compro i giornali. E se qualcuno gli spiega che invece sono stupidi, ecco, preferiscono lasciare quel giornale sul banco dell'edicola e prendere un altro. Secondo lei Oliviero Toscani legge la verità? Farebbe meglio leggerlo. Se gli è utile gliene mando anche una copia gratuita, anche se non faccio mai queste cose, ma magari lo aiuterebbe a non dire qualche sciocchezza alla radio di televisione. Grazie quindi a Maurizio Belpietro, direttore della Verità, torneremo a trovarla al più presto. Grazie.